La Conferenza Nazionale sui Dispositivi Medici, tenutasi il 18 e 19 dicembre 2014 presso l'Auditorium Antonianum di Roma, sotto la supervisione scientifica della Direzione Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della Salute, è un appuntamento istituzionale ormai giunto alla sua settima edizione, dove tutti gli attori sono stati chiamati a distanza di un anno a confrontarsi su diversi e complessi aspetti tecnico-normativi del settore dei medical device nei prossimi anni. Ed è stata inserita nel calendario eventi ufficiali del Ministero della Salute per il semestre di Presidenza Italiana. Il programma ha riservato particolare attenzione alla tematica in ambito europeo, acquisendo un'importante veste internazionale. Un programma scientifico ricco di incontri e momenti di dibattito, ha visto la prima giornata dedicata principalmente al tema della sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, con l'intervento del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, con l'obiettivo di individuare possibili soluzioni gestionali che coniughino il necessario sviluppo del settore con gli inevitabili e sempre più stringenti vincoli di bilancio. Dobbiamo pensare a un metodo che sia capace di tenere il passo col tasso di innovazione che c'è nell'industria e nei dispositivi, perché altrimenti continueremo con il fatto che chi non se li può comprare si ritrova a dover utilizzare degli strumenti obsoleti nei tempi che corrono a essere eufemistici. Difendiamo anche l'eccellenza e la qualità di quello che noi diamo ai nostri pazienti. Concetto ribadito e rafforzato dall'intervento di Stefano Rimondi, presidente di Asso Biomedica. La nostra regola è quella di mettere sempre quello che è il giusto, sacrosanto diritto dell'industria di tutelare i suoi interessi dentro un contesto più vasto. Quindi noi tutte le nostre posizioni le esprimiamo mettendo l'interesse dell'industria nel contesto di quello che è il primario interesse dei cittadini. Questo paese ha bisogno di crescita, di una crescita stabile e di una crescita solida. E per avere questa crescita c'è soltanto una ricetta, ricerca e innovazione. La nostra produzione è in grado di reggere il confronto a livello mondiale con tutte le aree tecnologicamente più avanzate. Concetti ripresi anche dal direttore generale di Asso Biomedica, Fernanda Gellona. Proprio per garantire la concorrenza, che badate bene, non può, non deve essere solo sul prezzo, anche se è evidente che il prezzo è un elemento molto importante. Ma nel nostro settore, forse più che in altri, la concorrenza deve essere fatta sulla sicurezza dei prodotti, sull'innovazione dei prodotti e quindi complessivamente sulla loro qualità, ovvero in che modo riescono a risolvere i bisogni di prevenzione, di salute e di riabilitazione della gente. Questa è la concorrenza che l'industria deve poter mettere in campo.